Rolex GMT Master 2 oro bianco, l'eccellenza dell'eleganza e della tecnologia. L'orologio da polso Rolex GMT Master 2 oro bianco è una creazione senza tempo che incarna l'essenza stessa dell'eleganza e della tecnologia all'avanguardia. Questo straordinario orologio è molto più di un semplice accessorio. È un simbolo di lusso, raffinatezza e stile distintivo. La sua sofisticata cassa e il bracciale in oro bianco rappresentano il massimo in termini di eleganza e bellezza. Il GMT Master 2 oro bianco di Rolex è disponibile in due versioni straordinarie. Una di queste presenta un quadrante blu, che è sinonimo di eleganza e raffinatezza. Il blu è un colore che evoca un senso di calma e serenità, e si abbina perfettamente con l'oro bianco, creando un equilibrio tra materiali e colori che è un piacere per gli occhi. La seconda versione è ancora più straordinaria, il quadrante in meteorite. Questo quadrante è realizzato utilizzando un materiale davvero unico e raro. La meteorite da cui è estratto proviene direttamente da una meteora caduta sulla Terra. Questo fatto rende ogni orologio con quadrante in meteorite un pezzo unico e irripetibile, poiché il disegno del quadrante cambia in base alla venatura del materiale. Questa versione del GMT Master 2 oro bianco è un vero pezzo di prestigio ed eleganza, e chi lo indossa porta con sé una parte della storia cosmica. La funzione GMT, una delle caratteristiche distintive di questo modello, consente di tenere traccia di due fusi orari contemporaneamente. Questo è particolarmente utile per chi attraversa il mondo per affari o piacere, poiché permette di sapere sempre l'ora in due diverse parti del blog. La quarta lancetta di colore rosso, abbinata al quadrante, fornisce un'evidente indicazione delle ore aggiuntive, contribuendo a garantire la massima precisione cronometrica. Indossare il Rolex GMT Master 2 oro bianco è una dichiarazione di gusto impeccabile e la possibilità di abbracciare un'icona di classe senza tempo.